E ritorniamo in City Skylines 2. Allora, off screen ho rifatto questo incrocio, una grande rotonda, due tunnel e le quattro rampe di emissione e di uscita. Ed ho eliminato ovviamente i semafori che andavano a crearmi in questo punto e in quest'altro punto. Per cui vediamo un attimino se si risolve un po' di problemi di traffico in questa zona qua, di ingresso in città. Poi, avevamo un po' di disoccupati, un bel po' tendente a tanto, un bel po' in realtà. E andiamo a mettere qui un po' di uffici. Abbiamo 3 di quadri vuoti, quindi così. Distruggi Apposto E qui mettiamo uffici Altri uffici li piazziamo anche qui Poi abbiamo come comunicazione Una qua E una qua Ah, in realtà ho sbagliato Vai Ok Seguiamo sempre Questo pattern di Come layout Per le strade Qui andiamo a chiudere Eh, non esce Aspetta un attimo, riproviamoci Riproviamoci Un po' c'è separato però Vabbè, lasciamo così Eh, amen Riproviamoci Riproviamoci E qui Andiamo ancora a mettere U A piazzare a questo punto Anche Questo Un bel Parcheggio Infatti Sembrava strano che Fosse strutture piccoline Questa Ok Facciamo un po' di Negozietti Qua E mettere Vicino la stazione Troppo grande Ammettiamo Uno di qua E uno da quest'altro lato E poi aspetta un attimo Perchè non va? Capisco Ah, metropolitano Lo sbedo io Colpa mia Colpa mia Colpa mia Perfetto Anche Aspetta un attimo, voglio fare una cosa Sì, se arrivano treni che non si devono fermare in stazione Possono bypassarli E non mi creano problemi a me di traffico Abbiamo del traffico dovuto a cosa? Il solito cambio di traiettoria di corsi anzi Sì, è troppo grande Ci lavorano di queste qua, quattro corsie però Vabbè Oppure Vabbè, non è niente, lasciamo stare così Mio traffico Il perché Questi devono in questo punto per poi girare Senza parola Il traffico va Qui che abbiamo? Ah, un incidente Vabbè, l'incidente non mi interessa Qui, in realtà abbiamo traffico Eh, questo St'incrocio è un casino, st'incrocio Incidente Altro incidente Che mi crea del traffico Ecco abbiamo i semafori Vabbè Bisoccupati Sono Scesi in picchiata E facciamo qui Ancora Qualche ufficio Per ridurre ancora di più Il numero di disoccupati Dammi qua Questo così Per ridurre ancora di più Per ridurre ancora di più Poi l'altro 160 Qui 160 Questo non Questo non lo so Prendo per buono questo Prendo per buono questo Proviamo Eh, in realtà è 156 In realtà Da qua a qua 160 Ho svegliato questo? No 160 Ok Parfaito Ci siamo Andiamo in qua E mettiamo Altri Uffici E andiamo a piazzare Inoltre Questo parcheggio E E Piazziamo Questo Ufficio E Donna commerciale Voglio dire Per ridurre ancora di più E Per ridurre ancora di più Per ridurre ancora di più Questa zona qui E ci siamo Poi Devo ricostruire questa Questa rotatoria Allora Intanto Tu Tu Via Circolata Su E Qui Facciamo Terminiamo tutto quanto 10 10 Qua Facciamo 60 80 70 Bella larga 72 E Ci siamo Poi Elimino Porto Solo Questo qui Mi riporto Poi abbiamo Trata larga 6 corsie Facciamo Facciamo Amore Che c'è il pilastro Qua Ok E Voglio vedere una cosa Ah vedi Perfetto Ma lo sposto Lui in automatico Ok Elimino Elimino Tra l'assegorsia Facciamo il collegamento E Ricreiamo La rotatoria Eh Vai Ecco Non me lo fa Che c'è il pilastro ah aspetta siamo sempre la siamo siamo sempre la dammi la strada secorsia a giornatura ok poi è in realtà dammi l'altro questa strada poi autostrada ok Grazie. E mi piace questa zona. Via questo e via questo. Dammi questo tool. Due. Ok. Tutto questo. Da qui. Qua. Da qui. Eccoci. Questa cosa non la capisco. Che pizza. Allora, facciamo un'altra cosa ancora là. Facciamo un'altra cosa. Un'altra cosa. Dammi. Un'altra cosa. Allora, questa è così. Questa è questa lunghezza. 237 metri. Ah, aspetta. Perché a questo punto io ho questa non mi fa. Facciamo. Così. Ora, vediamo un po. Così. Poi da qua. dobbiamo fare poi tool, eliminiamo tutte le strisce pedonali. non ce ne sono. Non ce ne sono, qua, abbiamo tolto l'ultima, questa, via così. Poi, qua, ho fatto. Che arriva qui. Che arriva qui, devo andare solo dritto. dove andare? Non altre. Perchè, chi arriva da qua e deve girare a destra, prende questa. Se invece da qua, devi andare da questo lato, devi prendere dal dattario superiore. e ci siamo. E cos'altro dobbiamo fare? E cos'altro dobbiamo fare? Qua va bene così. Ah, tu non fai questo e tu non fai questo. Tu non fai questo e abbiamo finito. Play. Probabilmente mi conviene fare però questo aggiornamento a 3 e anche questo aggiornamento a 3. No, ma posso avvisi, stop. Dammi qua. Perfetto. Ah, qui c'è un semaforo. Allora, tu. Si elimina. E si elimina anche questo. Scusatemi, non andate dritti? Si, però tu, scusatemi, questo è due macchine che arrivano da qua. Ok Una, due, tre Abbiamo un po' Tu Ok Tu Eh, tu Mi sa che hai sbagliato Tutti dritti Dritti, dritti Ok, perfetto Che problema abbiamo? Traffico in uscita È l'unica uscita No, ce ne sono anche altre Va bene Andiamo un po' Andiamo un po' Ok, i disoccupati stanno scendendo La popolazione è più o meno Sempre su intorno ai 150, 155 Ci piace Il traffico ci sta La zona industriale è bella Pulita Non ci sono problemi Qui abbiamo ancora questa zona qua Allora Mettiamo un altro po' di industria Però scusa un attimo Mi tornano le dimensioni di queste aree È giusta Questa è giusta Ma questa mi sembra più piccola Questa è? 112 128 112 Ma in realtà sì È proprio questa La vedete io qua Sbagliate forse 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eh sì Questo è più Vabbè sti cavoli Eh Ma prego Facciamo questo E facciamo qua E diamo un'uscita Un'uscita qui Un'altra uscita qui E ne mettiamo una random Ah questa è la centrale Per carburante Ok 28 No questo Vi ho detto quindi 112 Ok Scusami Scusami Ahia Qui E adesso Lo possiamo spostare Qui verso l'interno Però Ok La faccio 364.000 Di guadagno Non male Non male affatto Qualche traffico Abbiamo No Incidente Ok Istruzione College Dov'era il college Questo università Ora meglio College Le tre sono qui Ora facciamo così L'altro college Eh ci sta a piazzarlo Qui in realtà In questa zona Strada Facciamo Abbiamo la capacità Questa cos'era La biblioteca La biblioteca Le mettiamo Una qua E una qua Perfetto Perché poi Chiudiamo Così E una qua Qui in realtà Viggo, perfetto. Questo lo chiudiamo così e ci siamo. Bello, pulito, pulito. Altra situazione delle scuole, l'università, siamo messi male, ma l'università quale? La nostra? Perché questa è quasi piena, questa è quasi piena pure, l'altra università è questa. Il 967 su 2005, da questo punto anche qui potremmo andare a mettere l'università da questo lato. Magari, 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 magari. Facciamo qui, oltrepassiamo. Non mi dici quanto fai? 112. 112. E l'università, la piazziamo qua, così chi arriva vede subito l'università. Questo è la biblioteca, la mettiamo qui a lato, un'ala di estensione. E questo qui, poi. Andiamo a chiudere. Ah, proprio giusto, giusto. Ah, questo qua non ci va. Scusa, un attimo. Piazza dell'università. Opposto là. Verso qua. Eh, ma sono un pirla, eh, allora. E ditelo. Uno, due, e poi tre e quattro. Elimina questo. E avviamo il gioco, così. E questo, la piazziamo qua. Andiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi siamo tutto quanto sul verde. Perfetto. Questo va bene. Questo va bene. Qua non ci sono problemi. Scusa l'abbiamo visto. Qua rischio di incendio medio. 20%. Ah, devo mettere questi qua. Poi se ne parla nel prossimo video. Ho un po' di comunicazioni. Mettiamone. Uno qua. Uno qua. Qui. Qui. E qui. A posto così. Quindi pausa. E riprendiamo nel prossimo video.